Ciao, sono Simone Biancucci, vengo da Salve del Teltronto, ho vinto la borsa di studio Ivano Castella 2015 qui a Percento Musica di Roma, è una bella struttura, devo dire che sono stati molto accoglienti, per il momento siamo agli inizi ma mi trovo molto bene, sono persone molto disponibili, c'è una stupenda comunicazione tra allievo e docente e per il momento sono molto felice di essere qui. Accentando i quarti Il rullante anche accenta Io sono Gabriele, sono uno dei vincitori della borsa di studio in testa Ivano Castella, oggi è il primo giorno di lezioni, diciamo che mi sono trovato molto bene, I professori sono tutti molto cordiali, bravi, soprattutto professionali e anche i ragazzi comunque sono molto simpatici, diciamo che mi fanno sentire a casa sia i studenti che i professori. Io ho saputo nella borsa di studio, cioè più che altro ho saputo nella scuola tramite facebook, poi sono andato nel sito, ho visto che c'era la borsa di studio, ho tentato non luce, ho fatto la posizione ed è andata bene, sono qui e ora spero che il mio percorso vada a finire nel migliore del sito. Ciao sono Robin e ho trovato per caso una pubblicità di questa scuola per cento musica, ho deciso di provare a vincere la borsa di studio e oggi inizio le lezioni, insomma è un grande onore poter cominciare questo corso, insomma spero che sia all'altezza delle aspettative e auguro a molti altri la stessa esperienza. One, two, three. Ciao sono Dario e oggi sono qua a Percento Musica dove ho vinto una borsa di studio, della quale sono venuto a conoscenza tramite internet, tramite facebook. Oggi ho fatto la prima lezione qua, anzi le prime ore di lezioni diverse, sono tutte molto interessanti, sono strutturate in diverse maniere e direi che ti danno tanto su diversi punti di vista, sia dello strumento, sia della comprensione di quello che gli altri fanno intorno a te. Grazie. 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 Grazie.